Frittata di asparagi e sfoglia. Sei alla ricerca di una ricetta originale e di tendenza per un primo piatto? La frittata di asparagi con sfoglia è la soluzione che fa per te. Un piatto unico dai sapori delicati ma decisi, che conquisterà i tuoi ospiti. La frittata è uno dei piatti più versatili in cucina, ma in questa versione assume una veste decisamente più raffinata. Se il buon gusto non è mai abbastanza, è anche una ricetta che si prepara in pochi minuti, quindi adatta a chi ha poco tempo da dedicare alla cucina ma non vuole rinunciare a portare in tavola un piatto sfizioso e saporito. Gli ingredienti necessari per preparare la frittata di asparagi e sfoglia sono Asparagi, uova, formaggio grattugiato, sfoglia rettangolare, timo, sale, pepe. Inizia la preparazione della frittata di asparagi sciacquando accuratamente gli asparagi e tagliando le punte, quindi cocili in acqua bollente salata per circa 10 minuti. Intanto prepara una frittata con le uova, il formaggio grattugiato, un pizzico di timo, sale e pepe. Una volta pronti i due elementi, inizia l'assemblaggio della frittata. Prendi una teglia rettangolare ricoperta con la sfoglia e sistema al centro la frittata con gli asparagi, poi arrotola tutto su se stesso. Fai cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi centigradi per circa 20 minuti. Una volta cotta, la tua frittata di asparagi e sfoglia è pronta per essere servita. Puoi servirla calda come piatto unico o tagliata a fettine come antipasto. In ogni caso, anche i tuoi ospiti più esigenti saranno soddisfatti.